Nella puntata di ieri pomeriggio di Amici di Maria De Filippi, Sienna Osborne ha dovuto abbandonare la scuola più famosa d'Italia dopo aver perso la sfida contro la sfidante Francesca. A decretare la sua eliminazione è stata la decisione della coreografa Maura Paparo che ha scelto di premiare la sfidante e di farla così entrare nel talent show di Amici. Dopo la sua eliminazione, l'ex allieva di Emanuele lo è tornata sui social e in un lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram, ci ha tenuto a spendere due parole sull'esperienza appena conclusa, ringraziando Maria De Filippi, il suo insegnante, gli amici, i ballerini professionisti e tutti gli autori della produzione. Amici. Le parole di Sienna post eliminazione. Ecco che cosa ha scritto Sienna nel lungo post pubblicato sul suo profilo Instagram dopo l'eliminazione dalla scuola di Amici. Purtroppo il mio periodo ad Amici è giunto al termine. Sono stati due mesi incredibili. Per iniziare, grazie Maria. Questo programma è eccezionale e unico, e ho imparato così tanto nel tempo in cui ne ho fatto parte. Grazie per aver creato uno spazio per sfruttare talento e sogni. Grazie ai professionisti, una delle cose principali che mi mancherà è lavorare con il vostro incredibile talento ogni giorno. Ho imparato così tanto da ognuno di voi, e ricorderò tutto per il futuro. I miei amici, vi amo tutti così tanto. Ho fatto amicizie per la vita e mi mancherete. È stato l'addio più difficile. Produzione. Per aver sopportato i nostri crolli, la follia, l'ansia, le richieste e tutto il resto. Siete gli eroi dietro le quinte di Amici, ha poi aggiunto. Grazie per aver creduto in me fin dall'inizio. Sei stata la persona più preziosa in questo viaggio, e quando mi sono sentita completamente incompresa mi hai ricordato chi ero e quanto sono speciale. Anche se il nostro tempo insieme è stato molto più breve di quanto volessi, so che le nostre strade si incontreranno di nuovo. Sono così orgogliosa di ciò che abbiamo fatto insieme, vorrei solo che avessimo più tempo per mostrare al mondo quanto ancora ci aspetta. Spero di averti reso orgogliosa. Questa non è la fine che speravo, ma potrebbe essere la fine di cui ho bisogno per arrivare al mio prossimo inizio. Grazie a ogni singola persona che ha supportato il mio viaggio Amici.